ciao a tutti ragazzi ciao a tutti siamo tornati oggi siamo su cat mario 3d si capace si sei già bacca Ah, no. Ma negra? Eh, vaffan... Salta, eh, vaffan... Non ci arriva lì. Vai, andiamo, cazzo di merda. Vaffan... Ma cazzo è sgomba, non c'ha le... Non c'ha le gomme sui piedi. Guarda! Riccardo. Non si arriva il primo livello! Forza, non so c'ha mai... Vai, veloce! Cos'è sta merda? Vaffan tu, vai! E allora facciamo così a rinsaltare. Oddio! Siiii... questo è il... Questo va avanti o indietro. Il calpanino. Capito, però... Dai! Stiamo già almeno fatti. non mi sembra una cosa fattibile a me eh fin si riesce a me arrivo ai primi sul passo eh allora e poi e e vado a rimanere in basso sii no no non hai speranza di come non c'è qui si prova si no ma ah ma dio tanta roba ah ma c'è ancora spacciata in terra si è la carcassa vaffanculo come si fa qua devi girare come si fa ma vaffanculo eh vaffanculo 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 ah si basta che mi fai prendere un attimo la mano eh stai da su oh ma sei proprio uno scivice eh oh com'è vai da lì no no che ca metti di merda fammi fare cosi no no aspetta no perchè tra 4-5 video no ce l'avevo fatta prima dove hai il pancero genere rovino pinder che mi venga perchè torna indietro perchè torna indietro perchè tipo non ce l'ha da sopra a seguire eh ce l'ha da sopra a seguire eh ce l'ha da sopra a seguire cosa 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 cos'era cos'era un morto perchè casca una roba dal cielo no ragazzi no aspetta no aspetta perchè no aspetta perchè si lo so quanto è detto eh ma devi immaginare dai non c'è verso se l'ha cascato sopra dai ha migratto all'uccello perchè dai ha migratto all'uccello perchè dai no non ha equilibrio st'affare dai aspetta ora non ce la faccio è che se già progressi dai dov'è il tartabano galbano 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 guarda ora ci arrivo subito adesso no porca miseria che più gatti che giudano che mattonelle mi sto sfavando di brutto vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua sii oooh sii è qua è qua un salto che cazzo ho preso? eh un mattoncino non ci arrivavi uguale ma cipscia non ci arrivavi uguale e come devo fare? eh ci deve fare che il mattoncino aprile ah eh comunque vedi faccio progressi sii ah è progresso sie progresso fa anche regresso e che eh no lo stronzo oooh fermo oooh fermo fermo aspetta provo a saltare a dove? guarda tutte le file che cazzo sono? è questo che ti diceva? eh e come ci arrivo la sopra? non lo so non c'è versi che volendo non c'è versi ti è piaciato lo fa? ma che cazzo il livello è? non c'è versi c'è galvan c'è reddito sto salendo in crimine eh 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 ah ah si ma si sa ma ecco ecco basta basta ti prego non c'è no ah è sparata eh No, devo riuscirci, che punto è mio Oh, che cazzo è successo? Sto diventando misterico, Riccardo, lo sai? Vieni, vieni, vieni Altruncio Io direi di chiedere qua l'episodio Basta E casamai ci si riuscisse No, non ci si riuscirà mai, questo è un gioco sconsigliatissimo Basta Giochi consigliati da QS su YouTube, soprattutto da lui A me per forza I garbano tantissimo, tanto li continua a cadere Se vi piace questo gioco, non iscrivetevi E non mettete mi piace Se invece fa schifo, se ne siamo noi, mettete mi piace E consigliate Ciao a tutti ragazzi Buongiorno Buongiorno